Una signora di prima mattina sta cucinando e sta per preparare il sugo quando si accorge che non ha la passata di pomodoro. Allora chiama il marito e lo manda a comprarla. Solo che dopo cinque ore il marito ancora non torna, allora lei preoccupatissima chiama la locale stazione dei carabinieri. Pronto sono il comandante? Sì maresciallo buongiorno, ascolti ho mandato mio marito stamattina a comprare una passata di pomodoro per il sugo e dopo cinque ore ancora non è tornato. Mi dica cosa posso fare? Signora che le dico faccia aglio, olio e peperoncino. Se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra. Ah dimenticavo, è gratis!